Scontri in Tunisia nella giornata in cui doveva svolgersi il raduno dei salafiti di Ansar al-Sharia, proibito dal governo. Le proteste contro il divieto sono sfociate in incidenti tra manifestanti e polizia, sia al Keirwan, dove era in programma l'incontro di decine di migliaia di salafiti, sia nella capitale Tunisi e in altre città. Ansar al-Sharia, che sostiene apertamente Al-Qaeda, è considerata l'organizzazione islamica più radicale in Tunisia e da qualche tempo è entrata in conflitto anche col partito di ispirazione islamica al governo e Nasdaq. I militanti hanno rinviato il raduno a domenica prossima, ma il suo svolgimento rimane subordinato all'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Il di Castero, motivando il precedente divieto, aveva dichiarato che il movimento salafita ha mostrato disprezzo per le istituzioni dello Stato e rappresenta una minaccia alla sicurezza. Nel frattempo a Keirwan è stata arrestata la mina, la giovane blogger nota per aver manifestato sul web a Senonudo, che aveva annunciato di bollersi recare nella città per affrontare i salafiti. Grazie a tutti.